Nel mio indirizzo specifico la psicoterapia di gruppo è comunque una psicoterapia del soggetto, dell'individuo, quindi si occupa dei singoli partecipanti del gruppo e mira a far sì che loro stiano meglio, ogni singolo soggetto stia meglio. Il farlo in gruppo ha dei vantaggi e dei funzionamenti un po' diversi dall'aspetto individuale, ci sono dei fenomeni che facilitano, che amplificano, che permettono una conoscenza di sé attraverso diverse prospettive. Per esempio nella psicoterapia di gruppo l'esempio più facile che mi viene è che non è necessario dire qualcosa di personale per toccare dei temi personali, li potrebbe dire qualcun altro, o qualcun altro parlando della sua storia potrebbe toccare dei temi che mi riguardano, che in quel momento sono in silenzio e in questo senso essere comunque utile e terapeutico anche per me. Anche se si chiama terapia di gruppo il focus rimane comunque il singolo, rimane comunque il soggetto, la persona che viene perché ha una sofferenza. E gli aspetti analizzati, a parte sicuramente l'intreccio delle storie individuali e la configurazione che quel gruppo prende nella libera discussione, nel libero parlare tra di loro, l'attenzione viene posta sia sul modo che il singolo soggetto, la singola persona ha di stare in quel gruppo, ossia rispetto a quali sono i contributi e come vengono vissuti dagli altri partecipanti del gruppo, i contributi che ogni singolo soggetto porta e quali sono invece le cose che mi toccano e mi riguardano portate da altre. L'intreccio di queste tre componenti, che cosa io metto nel gruppo, che cosa io ricevo dal gruppo e il modo di stare in relazione al gruppo, è il focus della terapia di gruppo a partire dalle storie personali, dei vissuti personali. Ma quando è utile, come la terapia individuale mi viene da dire che non ha limiti, è sempre utile, devo pensare a quando può essere più utile, ma spesso nella mia esperienza ho trovato che può essere utile per chi magari è più utile, per chi ha già preso un percorso individuale e ha trovato a un certo punto un impasse nel suo percorso individuale, o comunque è arrivato a una conclusione nel suo percorso individuale, la psicoterapia di gruppo apre, diciamo così, al confronto non solo con il proprio terapeuta, il proprio analista, ma anche al confronto con gli altri e questo è in qualche modo un aprirsi verso la società, verso gli altri, poter parlare di sé in una situazione di gruppo permette dei fenomeni di amplificazione, di risonanza che senz'altro sono fattori terapeutici possiamo dire, insomma proprio perché si entra in contatto con il proprio modo di stare con gli altri in una maniera dal vivo mi viene da dire, insomma non solo come si fa invece nella terapia individuale, attraverso i racconti, attraverso una narrazione e nella terapia di gruppo si fa proprio un'esperienza diretta del rapporto con gli altri e diventa materiale utile per poterci confrontare, lavorare, per poter innescare momenti trasformativi. La psicologia dei gruppi è un tema molto ampio che studia tanti settori, i miei campi di interesse e di intervento sono principalmente due, è quello propriamente legato alla terapia di gruppo che è un aspetto specifico della psicologia dei gruppi e quello relativo alle dinamiche organizzative per consigli di amministrazione per l'azienda rispetto al proprio ruolo lavorativo. Questi sono i miei due campi principali di interesse e di lavoro. Senz'altro un aspetto che studia la psicologia dei gruppi sono le dinamiche, insomma, che avvengono nell'incontro tra persone, sia in contesti terapeutici sia in contesti lavorativi dove si sviluppano dinamiche specifiche anche tenendo conto dei diversi ruoli lavorativi. Senz'altro la pandemia ha aumentato, in qualche modo è stato evidente per tutti, in qualche modo l'isolamento ha portato a una necessità, insomma, a una ricerca di socialità, insomma, attraverso l'online durante la pandemia e questo ha facilitato l'accesso a gruppi A, persone che magari prima erano più refrattari, erano più legate a un rapporto individuale rispetto alla terapia, insomma, il fatto che si erano isolati, portare avanti una terapia individuale, rimaneva comunque un rapporto uno a uno, l'apertura verso i gruppi ha, in qualche modo, soddisfatto anche un'esigenza più di condivisione che in quel periodo è stato molto forte. La psicoterapia di gruppo è nata in un momento di grande crisi, dove c'era tanto disagio e necessità di curare tante persone insieme, quindi è nata durante la seconda guerra mondiale, nel primo dopoguerra, è lì che hanno cominciato a svilupparsi le terapie di gruppo, le teorie sulla terapia di gruppo, proprio perché soddisfava l'esigenza di curare tante persone in un momento di crisi. Normalmente nella mia pratica lavorativa lavoro con gruppi da 6-12 persone, che sono, a mio avviso, i numeri ottimali per poter fare un lavoro di gruppo, poi ci sono anche, così, dei grandi gruppi di terapia nella bibliografia, nella storia, nella sperimentazione del modello, con gruppi più numerosi e senza limite. Io ritengo che comunque un gruppo deve avere un numero in cui tutti possono avere lo spazio di parlare nel tempo in cui ci si incontra, quindi appunto per questo da 6-12 come idea, possono essere più o meno due, insomma. Lo psicodramma è un dispositivo particolare della psicoterapia di gruppo, un dispositivo psicoterapeutico, ma che può essere anche formativo, e anche qui lo psicodramma ha diverse origini, quello a cui io mi riferisco è lo psicodramma psicanalitico, secondo il modello francese, ed è né più né meno che una psicoterapia di gruppo dove in aggiunta alla parola entra in campo, entra in scena il corpo, l'azione, il gioco di fatto viene chiamato gioco, e il potere mettere in scena delle azioni, dei giochi come vengono chiamati, permette di andare oltre il pensiero, di poter fare delle cose per poi poterle analizzare dopo, per poi poter vedere in che modo quello che è successo può essere utile per i singoli soggetti che hanno partecipato, in che modo ci dice qualcosa di quei soggetti, delle loro sofferenze o delle loro risorse. Quindi ha come aspetto secondo me caratterizzante appunto la messa in gioco del corpo, dell'azione, e quindi un po' meno pensiero, mi viene da dire, questo è facilitante, può essere anche divertente a volte, ma è sempre intenso e utile. Diceva il mio maestro, io mi sono formato con René Caes, questo psicanalista francese, che psicodrammatisti, ma anche psicoterapeuti di gruppo, non lo si diventa mai, nel senso che il presupposto è che il gruppo è una realtà così complessa che non si finisce mai di formarsi per diventare psicodrammatista o psicoterapeuta di gruppo. È un percorso senza fine, in qualche modo, perché è una realtà plurisoggettiva dove bisogna tenere insieme diverse realtà. Poi tecnicamente nel mio percorso formativo, praticamente nel mio percorso formativo, appunto mi sono formato con questo psicanalista francese sulla psicodramma in particolar modo, e ho fatto diverse formazioni sulla psicoterapia di gruppo, sulle dinamiche di gruppo, a Londra, al Tavistock, insomma ci sono diverse scuole che danno così delle linee guida su la conduzione dei gruppi, l'uso del gruppo in psicoterapia, e mi piace sottolineare linee guida proprio perché appunto non è mai esaustiva questa formazione. Grazie. 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 Grazie.